La crisi politica italiana mostra molte delle contraddizioni tipiche della politica italiana. Una di queste mi ha fatto tornare in mente una vecchia affermazione di Altiero Spinelli, cioè che tra i nemici dell'Europa vanno contati anche gli europeisti della domenica, quelli che dal lunedì al venerdì si occupano solo di politica nazionale, cioè di quelle che considerano cose serie, e poi la domenica fanno un bel sermone su quanto sarebbe utile un'Europa unita. Ecco, vedere la nascita di gruppi che si richiamano all'europeismo con persone, alcune delle quali sì hanno una storia di impegno sui temi europeisti, come Gianni Marilotti o Tatiana Roic, altri certamente molto meno, è chiaramente una contraddizione forte, così come il richiamo da un lato agli europeisti, però che non sembra rivolgersi verso forze come più Europa che si sono caratterizzate su quel tema. Dall'altra parte abbiamo la contraddizione di chi considera immorale il mercimonio dei parlamentari, allo stesso tempo ha solo parole di miele per l'Arabia Saudita, un regime assolutamente autoritario dove vengono violati i diritti fondamentali delle donne, addirittura tessere lodi del loro mercato del lavoro, un mercato del lavoro dove non esistono i sindacati, dove le donne sono sistematicamente e per legge pagate meno degli uomini, in una situazione dove non esiste il pluralismo partitico e dove vengono uccisi e squartati i giornalisti che criticano il regime, come è accaduto al giornalista Khashoggi nel consolato dell'Arabia Saudita in Turchia. Allo stesso modo abbiamo parlamentari che riescono a cambiare casacca tre volte in 24 ore e alla fine di tutto questo sostengono che hanno prevalso gli affetti. C'è da dubitare di quali siano, come dire, gli affetti di tutti i costoro. Ecco, tutto questo ci mostra una classe dirigente inadeguata, con uno scarso senso di responsabilità in un momento in cui ne avremmo invece grande bisogno. Stanno per arrivare i fondi del Recovery Plan, la più straordinaria unica occasione per mettere mano ai grandi problemi del Paese, alle riforme strutturali, agli investimenti produttivi, richiedono visione, unità, responsabilità, come ha chiesto il Capo dello Stato nel suo discorso di fine anno. Finora in questa crisi non ve ne traccia. Speriamo di essere presto smentiti.